Salve, volevo farvi vedere che oggi sono stato dal barber e ho sistemato la barba. Il barber da chi sono andato è Francesco Cerignotta a Milano, barber tricoestete. Tricoestete perché in base al viso dà la forma della barba. Il lavoro che ho fatto oggi è stato sfoltire il baffo qui, squadrarla di lato, come si vede si riesce a notare una forma squadrata di lato. Sia da una parte che giustamente anche dall'altra. E me l'ha praticamente col phon e la spazzola quella rotonda, me l'ha stirata per renderla più lunga e dare una bella forma. Mi raccomando non usate la piastra a meno che uno non se ne intenda sa più usarla, che se no rovina la barba. Contento. Ottimo e bravo Francesco Cerignotta. Alla prossima, ciao!